Nuovo boom di contagio a Torre del Greco. Nella giornata ieri sono stati certificati 115 casi di positività al Covid-19, di cui due in regime ospedaliero e di restanti in isolamento domiciliare. Certificate anche 76 nuove guarigioni. Comunicato ancora un decesso, si tratta di un uomo di 85 anni. A Torre Annunziata sono 50 i nuovi casi di contagio a Covid-19, a fronte ai 277 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta al 18,05%. Al contempo si registrano anche 66 guarigioni e, purtroppo, 6 decessi di 4 uomini e 2 donne, rispettivamente di 80, 83, 78, 74, 81 e 69 anni. Verificatisi, però, nel periodo che va dal 22 febbraio al 3 marzo. Sono 774 i cittadini attualmente positivi. Da giovedì 4 a domenica 7 marzo sono stati invece 622 i cittadini di Ercolano sottoposti a tampone. Dai dati dell'ASL risultano 177 i nuovi positivi a fronte ai 95 nuovi guariti, 7 dei quali avevano riscontrato la cosiddetta variante inglese. In totale, al momento sul territorio, si registrano 537 i cittadini positivi, 13 dei quali con variante inglese, mentre quelli guariti sono in totale 2.398. A Portici, invece, sono iniziate al Palazzetto dello Sport in Via Farina le vaccinazioni alle persone sopra gli 80 anni che si sono prenotate sulla piattaforma regionale. Sono 215 i cittadini di Castellammare di Stabbe, risultati positivi al coronavirus il 6, 7 ed 8 marzo. Sono stati lavorati complessivamente 1437 tamponi, 31 invece i guariti.